Mauro, vedrai che arriva la lettera di Laura alla dinosaura, vedrai che arriva, vedrai. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sulla posta di Leonardo, vediamo quanti disegni mi avete mandato, ok, sì, c'è una cosa, segnale, quanti, allora questo disegno ce lo manda Arianna. Sì, l'altra volta è un bellissimo disegno, allora, il mosasauro e il dimorfodonte. Lo sapete che dimorfodonte è denti? Non tutti i volatili hanno i denti. Allora, questo disegno ce lo manda Gaetano, nove anni da Maiori, il mosasauro con lo squalo di Jurassic World. Questo disegno ce lo manda Gabriele. Questo mi sembra un taglio per ex con i suoi cucciolini. Questo disegno ce lo manda Gabriele, otto anni da Pianica, provincia di Venezia. Si va solo con le barche a Venezia. E' un raptor, veloce, raptor, ultra raptor push. Allora, questo disegno ce lo manda Francesco, otto anni. E' un terzino sacro. Questo disegno ce lo mandano Andrea e Francesco da Fiore all'uomo di Venezia. E' un carnotauro geneticamente modificato, come il Dominus Rex. Bello questo. Questo disegno ce lo manda Clara, Clara da Modena. Allora, qua c'è un triceratopo e qua c'è un t-rex. significa ti mangerò triceratopo e dietro c'è un t-rex. Questo disegno ce lo manda Sai Gian da Milano. Allora, questo qui si chiama Bini e questo qui si chiama Sori. Che bello questo. Un alligatore. Alessandro, 7 anni. Non ci riuscirò mai a disegnare così. Allora, questo disegno ce lo manda Brentano, 4 anni da Capri. Quell'isola. Ma è bravo. Quattro anni ma è bravo. Quattro anni è bravissimo a disegnare. Quanti ancora? Allora, questo disegno ce lo manda Francesco, 7 anni da Roma. Questo disegno ce lo manda Davide da Bari. un indominus rex e indominus rex contro il t-rex. Questo disegno ce lo manda Alessandro di Leverano, provincia di Lecce. Un tricerato. Un tricerato. Ho scritto qui. Un tricerato. Un brachiosauro. Un brontosauro. Questo disegno ce lo manda Achille. Le 5 anni da Lussemburgo. È un diplodoco. Allora, questo disegno ce lo manda Giuseppe, 5 anni da Isernia. Un dimaffodonte. Un t-rex e uno spinosano. Pupipupipu. Pupipupu. Questo disegno ce lo manda Riccardo, 10 anni da Torino. Questo disegno ce lo manda Pietro quattro anni. Questo disegno ce lo manda Nunzio cinque anni da Palermo. Questo disegno ce lo manda Mattia cinque anni dalla provincia di Pesaro Urbino. Questo disegno ce lo manda Loris dieci anni da Napoli. L'ha fatto sui quadretti di matematica. E' un Indominus Rex. Questo disegno ce lo manda Loris dieci anni da Napoli. E' un T-Rex. Tanti saluti al fratellino Giuseppe e alla sorellina Chiara di Loris. Questo disegno ce lo manda Leonardo cinque anni da Caligatti provincia di Agrigento. Agrigento. Questa è un Spinosauro. Questa c'è un T-Ranusauro. Oh no! Un Carnotauro e un T-Ranusauro. Allora questo disegno ce lo manda Ian cinque anni da Sant'Angelo il Vado. Qua c'è un Indominus Rex. Un Velociraptor blu e un Trigeratico. E qua c'è il simbolo di Jurassic World. Oh! Scusa Mauro! Fiiiiti! Allora questo disegno ce lo manda Gianluca dalla provincia di Bari. Questo è un Brachio Asano e questo è un Umino. E questo cos'è? Un Corcegliatus Cruciatus Cruciatus. Vediamo oggi Dino Postino a chi porta i saluti. Dino Postino! Tanti saluti a Luca! Tanti saluti a Tiago! Ciao Tiago! Ciao Luca! E tanti saluti ad Arianna! Ciao Arianna! E queste invece sono le vostre foto. e questo video è ughite. E se si muove, Che così muove! A direzione è in più. Anche con faminto. Dino. Merezza di Tè, aarello. E qui? E questo è un ruoto. E questa è la mia spalla E quali sono tutti i vostri diseti che mi avete mandato? Tutti, 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 tutti Potete mandarmi i vostri disegni a questo indirizzo E ciao! Mauro, ma non mi sembra di aver visto La lettera di Laura La dinosaura tra Tra La posta Andiamo qui Niente di niente Ma Critch Cos'hai lì sotto? Ecco dov'era Ecco dov'era Ecco dov'era Per Leo da parte Di Laura la dinosaura Critch Sei sempre il solito Adesso ti faccio andare in posizione Vai via In posizione Vai in posizione Mauro Vediamo cosa c'è scritto Mentre Critch Adesso è con la faccia Appiccicata Appiccicata Allora Uno E Due Questo non lo vedo Finché Non Finché Non Leggo Questa lettera Allora Ciao Mauro Io sono Laura la dinosaura Mi sei molto Simpatico Sai Hai sempre Delle bellissime Cravate Vorrei Telefonarti Qualche volta E scriverti Qualche lettera Ogni tanto Ti manderò Anche qualche Disegno Sai Sei molto Carino E simpatico Mi piacciono Molto Le polpette Ti mando Un saluto Il dinosauresco E ci vediamo Presto Ciao Mauro Ciao Leonardo Mauro Guarda È proprio Innamorata E adesso Vediamo qui Cosa c'è Oh Dove Dove Di qua C'è un disegno C'è un disegno Un disegno Un disegno Guarda Mauro Bello Guardate Mauro Qualche volta La chiamiamo Laura La dinosaura Che ne dici Ragazzi Spero tanto Che questo video Vi sia piaciuto E anche la parte Che Trigia Andate in posizione Mi piace Se vi piace Il video Iscrivetevi Al mio canale E Ciao Ciao Da Leonardo Ragazzi Ricordiamoci Di biscotto E aiutiamo Il suo pianeta Iscrivetevi Al mio canale Grazie